Ballottaggio 25 giugno, arrivano così i primi apparentamenti. Se da un lato Carla Cimoroni, candidato sindaco della lista civica L'Aquila Chiama L'Aquila, aveva già anticipatamente detto che non si sarebbe apparentata con nessuno e neanche il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro, in caso di vittoria di Pierluigi Biondi, candidato del centrodestra, non entrerà neanche in Consiglio Comunale, arriva il primo apparentamento formale, ufficializzato, quello di Giancarlo Silveri di riscatto popolare con il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi. Scrive Silveri che la lista di riscatto popolare ha deciso di apparentarsi formalmente con la coalizione centrodestra, in tal senso il Movimento è pronto a rimpegnarsi fortemente per ottenere il massimo consenso elettorale che possa consentire la vittoria. Tutto questo mentre l'ufficio centrale ha formalizzato l'ammissione al ballottaggio dei due candidati, Americo Di Benedetto con 18.395 voti, Pierluigi Biondi con 13.903, e come prevede l'articolo 72 del decreto legislativo del 2000, entro domenica 18 giugno è possibile presentare collegamenti da parte delle liste presenti al primo turno con i candidati ammessi al ballottaggio di domenica 25 giugno, ulteriori rispetto a quelli già formalizzati con gli stessi candidati sindaci in occasione del voto dell'11 giugno, i cosiddetti apparentamenti appunto. Per questa ragione, oltre ad oggi, gli uffici degli affari istituzionali della sede di via Filomusi Guelfi in Villa Gioia saranno operativi anche domenica 18 giugno dalle 9 alle 18.